Paolo aveva recepito da buon rabbino, aveva sposato anche lui la seconda scuola e questa centralità, un comandamento centrale da cui derivi tutto il resto, Paolo lo ha sposato in pieno e quindi la frase di Gesù della linea 78 è diventata per Paolo un punto di non ritorno. Nella lettera ai Romani che è il capolavoro di Paolo, Paolo scrive, linea 86, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole, sta parlando del comandamento dell'amore che noi abbiamo appena letto e su quale fra poco ritorneremo. Perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge, più chiaro di così si muore. In questo versetto 8 della lettera ai Romani capitolo 13, Paolo ha riassunto ciò che è scritto dalla linea 72 alla linea 78. Quello è riassunto, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Poi, da buon pedagogo Paolo esemplifica, infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai o qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola, che è la linea 77. Ma poi, e qui i traduttori meriterebbero una piccola tiratina d'orecchi, Quindi, linea 89, versetto 10, la carità non fa alcun male al prossimo. Perché la carità? Per noi la carità ha già preso un significato, fra virgolette, tecnico. Non puoi scrivere amore perché da noi ha un altro significato. Allora, traslittera. Cosa è scritto in greco? Agape. Allora, ammetti, l'agape non fa alcun male al prossimo. Capiamo cosa vuol dire agape. L'agape non è l'amore passionale, ricco di sentimento, di emozioni. Quello è l'eros. La parola amore nostro è l'eros greco. L'agape è un'altra cosa. Ma non è la carità. Carità per noi è equivale a elemosine, è equivale ad aiutare il prossimo, ma non ad avere l'atteggiamento dell'agape. Perché vi dico questo? Perché noi abbiamo troppi pensieri nella vita e certamente non andiamo lì a leggere il capitolo 13 della Prima e Corinti studiandolo per bene. Ma ci capiterà di farlo. Nell'inno alla agape, Paolo dice a un certo momento una cosa che ti fa venire i peli dritti. Se anche dessi tutte le mie sostanze, noi diciamo più carità di così. Ed essi me stesso per sostituirmi alla pena di morte di un altro, questa è la traduzione, non quella che hanno fatto adesso, perché è contraddittoria. Ma non avessi l'agape, wow, ma allora vuol dire che l'atteggiamento di carità non è l'agape. L'agape è un'altra cosa. Perché io posso avere questo atteggiamento donativo. E Paolo lo dice, se anche dessi tutte le mie sostanze, se dessi anche me stesso, più generoso di così si muore. Non c'è altro. Eppure Paolo dice, se anche avessi questo atteggiamento totalmente di dono, ma mi mancasse l'agape, niente mi giova. Che vuol dire che l'agape non è la carità. Wow. Che cos'è l'agape? Faremo un corso di otto incontri. Però è importante avere queste idee chiare, altrimenti noi facciamo un minestrone maledetto di tutto. E invece, tu ti chiami Roberto, tu ti chiami Anna Maria, tu ti chiami Genoveffa, tu ti chiami Cunegonda, ognuno ha il suo nome. Non posso dare un nome qualunque a chiunque, faccio una confusione del diavolo. Era mia nonna che quando ci chiamava, passava in rassegna tutti i nomi, perché non si ricordava, non abbinava il nome alla persona. E allora la nonna, quando doveva chiamare, faceva la litania, e magari davanti a lei c'era una persona sola. E dice, un nome lo imbrocco. Ecco. Quindi l'agape non fa alcun male al prossimo, pienezza della legge infatti è l'agape. Punto. Questo concetto paolino da dove viene? Dalla linea 78. Paolo aveva, si era imbevuto del messaggio di Gesù. Lo cita in maniera diretta e poi esplicita quel concetto fondamentale che si trova alla linea 78. Dunque l'agape è il fondamento di tutto. Ma quando io dico agape è il fondamento di tutto, il grosso problema è rispondere alla domanda che cos'è questa agape, se l'agape non è donazione. L'agape non è generosità, non si identifica con la generosità. L'agape è di più? Allora io devo sapere che cos'è, altrimenti come faccio a fare dell'agape il perno. Se noi esploriamo sempre questo ultimo discorso che Gesù fa nell'ultima cena secondo il Vangelo di Giovanni, ed è un po' il testamento di Gesù, l'essenza del suo messaggio. Noi leggiamo questo testo al capitolo 13. 91 lettera A Figlioli Tecnia Ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire per il momento. Lettera E Entolenkainem Un comandamento nuovo Didomi imindo a voi Che vi amiate gli uni gli altri Katos Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Punto. Questo è il primo significato di Agape Come lui Notate? Torniamo a quel fatidico Come lui che io vi ho annunciato alla linea 32 dicendo detto questo posso andare Perché tutto quello che abbiamo conversato questa mattina è semplicemente una serie di petali bianchi attorno al bottone giallo della margherita per comporre il fiore Ma è solo un commento a quel come lui E qui Gesù lo dice apertamente Quella Agape dunque verso Dio, verso il prossimo e verso se stessi Uno non può viverlo come gli pare e gli piace Ma il Perno della comprensione Di questo perno della morale È Come lui Vi do un comandamento nuovo Che vi amiate gli uni gli altri Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri Capite che a questo punto L'amore non diventa Una emozione Ma diventa una scelta di imitazione Una scelta di imitazione Poi c'è qualcosa da sottolineare su quella Entolenkainen Comandamento nuovo Noi non ci commuoviamo di fronte a questo comandamento perché Abbiamo le orecchie piene Basta dieci comandamenti Adesso anche l'undicesimo No, questo annulla tutto Però c'è questo aggettivo nuovo che inquieta Perché nuovo? È Dal momento che abbiamo visto Che il comandamento dell'Agape Sia verso Dio, verso il prossimo, verso se stessi Era già stato annunciato fondamentalmente dall'Antico Testamento Amare Dio è già presente nello Shemach Israel Amare il prossimo, beh, Gesù lo ha universalizzato ma il concetto di fondo lo ha preso dal libro del Levitico Allora molti santi uomini di Dio dicono è nuovo perché lui lo ha universalizzato Ma è nuovo perché lui ha posto se stesso come modello Questo è anche vero Ma c'è qualcosa di più Se noi leggiamo con attenzione il capitolo 31 di Geremia Versetto dal 31 al 34 Geremia fa la profezia della Nuova Alleanza E nella profezia della Nuova Alleanza Geremia dice che la legge Non sarà più Uguale Alla legge della Vecchia Alleanza Perché la legge della Vecchia Alleanza era un codice E il codice è fuori Dal cuore dell'uomo La legge della Nuova Alleanza Sarà posta da Dio nel cuore dell'uomo Questa è la nuova legge Non un qualche cosa che tu impari nei banchi di scuola E poi la devi mettere in opera Nella tua vita quotidiana Ma è una legge che Dio ti mette dentro E noi abbiamo visto che cosa significa questo mettere dentro E' l'esperienza che tu fai E l'esperienza che tu fai E' assolutamente personale Non è esportabile Questa esperienza personale Questo tuo vissuto Tu lo rileggi Lo riscopri E vedi la presenza di Dio nella tua storia Questo è un fatto Profondamente interiore all'uomo Questa è la sede Del comandamento nuovo Non le parole